Saluto Coldweb TV per la consueta disponibilità. Cosa mi è passato per la mente? Al di là del dato personale che è rilevante, l'amarezza, il distacco da un ruolo che ritenevo di poter svolgere con dedizione e abnegazione nell'interesse della città, io credo che l'elemento fondamentale di riflessione è stato quello di aver perso un'occasione. Lo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale ha consegnato di nuovo questa città ad una gestione commissariale che per la sua natura stessa non può affrontare i nodi dello sviluppo della nostra comunità, che sono tanti e che sono urgenti da affrontare ed indilazionabili nelle soluzioni che devono essere praticate. E' stato un atto di superficialità dettato più che da una valutazione politica, da una congerie di risentimenti, di rancori, di voglia di rivincita che non si conciliavano, non si conciliano e non sono state intese dai maddalonesi come elementi che andassero nell'interesse generale. Io l'ho vissuto con un distacco determinato dal fatto che ho sempre ritenuto che l'esercizio del potere deve essere praticato costantemente come se ogni giorno fosse l'ultimo giorno, perché se così non è si diventa schiavi e vittima del ruolo, del potere che si va ad assumere. L'ho vissuto con grande serenità e soprattutto con la consapevolezza di aver fatto tutto quello che era giusto fare e tutto quello che ho fatto ritengo di averlo fatto senza aver tradito la fiducia di coloro che mi avevano designato a ricoprire quell'incarico. I maddalonesi credo che abbiano compreso il senso della mia offerta di disponibilità. Non ho inteso candidarmi alla carica di sindaco perché questo potesse essere un trampolino di lancio per una carriera politica né ho inteso farlo per la soddisfazione di interessi particolari. Credevo e credo fortemente nella possibilità di dare un contributo significativo al rilancio di questa città, al risveglio, al risorgimento della nostra comunità. Che cosa significa il fatto che ci siano centinaia di commenti e che per una parte della pubblica opinione io comunque rappresento ancora il ruolo istituzionale che non ricopro formalmente. Io credo che significhi il fatto che questa comunità ha un disperato bisogno di rappresentanza. Maddaloni non ha una rappresentanza degna di tale nome da tanto tempo e i maddalonesi hanno voglia di identificarsi non tanto in una persona ma in una prospettiva. Questo è stato il senso della mia candidatura e questo è il senso della mia militanza politica che ieri come oggi vuole testimoniare una totale dedizione agli interessi della comunità piuttosto che agli interessi di parte. Al netto di quello che saranno gli esiti della giustizia amministrativa dovrebbe essere così. Credo che la mia ricandidatura sia un atto doveroso non solo verso me stesso ma anche nei confronti delle migliaia di maddalonesi che mi hanno indicato come sindaco e che avrebbero voluto che io fossi messo nelle condizioni di poter governare questa città e di dimostrare quanto fosse genuino l'obiettivo e quanto fosse veritiero la prospettiva, l'idea di determinare un radicale cambiamento nelle modalità di gestione della comunità cittadina. Che cosa sta accadendo? Io l'ho detto a più riprese anche se mi rendo conto che ci sono alcuni ovviamente interessati che non sembrano voler intendere e che rinverdiscono quel famoso detto che non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Io riparto dalla coalizione che mi ha sostenuto alle ultime elezioni. Una coalizione fatta di persone disponibili rispetto a quello che io avevo manifestato in campagna elettorale e che mai in nessuna circostanza si è frapposto come un ostacolo rispetto a quello che avrei voluto realizzare. Neanche nei giorni convulsi che hanno preceduto lo scioglimento del Consiglio Comunale, la mia decadenza. E di questo colgo l'occasione per ringraziarli singolarmente le forze politiche, i movimenti che mi sono stati vicini in maniera assolutamente solidale. E vorrei fare giustizia di tutte le interpretazioni che dicevano che io sarei stato ostaggio della mia coalizione. Non c'è stata formazione la quale non abbia dichiarato la sua disponibilità a rimettere nelle mie mani un mandato pieno ed incondizionato. Se ho avuto momenti di irrigidimento, questi momenti sono dovuti tutti alla mia personale responsabilità e ringrazio la coalizione che mi ha sostenuto, i movimenti e le forze che mi hanno sostenuto perché mai in nessuna circostanza sono stati elementi di pressione nei miei confronti. Poi che cosa potrà accadere? Io l'ho detto anche all'ultimo congresso del Partito Democratico, ho detto cose che sembrano ogni volta originali ma che originali non sono, ma che sono cose che, ripeto, da anni e che ho detto prima, durante e dopo la campagna elettorale. Questa città si salva con il contributo di tutti perché a situazioni di straordinaria emergenza si risponde con soluzioni di straordinaria convergenza. Io ho detto al Partito Democratico che al di là dei rancori, dei risentimenti che si possono nutrire e che potrebbero essere facilmente coltivati da chi come me è stato sfiduciato ad un mese dalle elezioni, io credo nella possibilità di un'amplissima convergenza delle forze politiche, sociali e civiche di questa città per un governo condiviso, che ognuno lo chiami come vuole, governo costituente, governo di salute pubblica, lo possiamo definire come vogliamo. Ho detto al PD che io e le forze politiche che mi onoro di rappresentare siamo interessati a che in questa città ci sia un PD forte, ci sia una sinistra forte, ci sia un centrosinistra forte perché la forza della politica è determinata dalla forza delle singole componenti e quando una forza politica è in difficoltà va in difficoltà l'intero sistema, l'intero complesso di relazioni politiche perché il primo elemento da recuperare nella nostra cittadina è quello della credibilità della politica che è fortemente minata da un senso di sfiducia assolutamente comprensibile da parte dei maddalonesi. Quindi ho detto al PD che se il PD sarà disponibile a ragionare fuori dalle logiche di schieramento e dagli steccati delle appartenenze, noi ci saremo nel confronto sulle idee e sui programmi per la città. Non credo di aver detto nulla di rivoluzionario né nulla di nuovo, ovviamente questo viene interpretato ad Usum Delfini per dire De Filippo d'accordo con questa parte del PD piuttosto che con quest'altro. Io vorrei dire a quelli che si ostinano a ritenermi la causa dei loro problemi che io non sono la causa dei problemi dei partiti, io al massimo posso rappresentare la conseguenza. perché vorrei dire a quelli che si ostinano a vedere trame, complotti, sotterfuggi, tranelli vorrei dire che se il problema fossi stato io, la straordinaria unità del centro-sinistra che ha portato 13 consiglieri comunali a dimettersi dopo un mese dinanzi al notaio per interrompere la consigliatura, oggi dovrebbe vedere il centro-sinistra posizionato in maniera tutt'altro assolutamente diversa da come è. Il problema non è De Filippo, il problema è che i partiti non reggono, è che quando i partiti diventano strumenti di divisione tra interessi contrapposti piuttosto che strumenti di elaborazione di idee e di rappresentanza degli interessi sociali, il risultato è quello che è sotto gli occhi di tutti. Quindi io non rappresento il problema per il centro-sinistra, il centro-sinistra è il problema di questa città. Lo ha testimoniato con la condotta scelerata avuta nel dopoerezione, continua a testimoniarlo per la incapacità complessiva di rappresentare una proposta politicamente credibile e questo i maddalonesi lo hanno capito. Lei mi sta dicendo che sta scherzando l'occhio al PD nel caso in cui tiene una porta aperta? Questo è esattamente quello che non volevo dire, nella considerazione giornalistica corrente io capisco che bisogna ridurre in sintesi un ragionamento, ma se io dico che questa città ha bisogno del contributo di tutti. Mi sembra logico e naturale che la conseguenza sia sono disponibile a dialogare con chiunque ci sia.